Benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni, l'ospite di oggi è Stefano Deon, sindaco di Sedico. Buonasera a tutti. Allora partirei subito da quello che è un po' il tema del momento, ovvero la gestione dell'emergenza Covid, ora un po' sfumata ma comunque che ha lasciato un segno piuttosto pesante. Come è andata nel vostro comune? L'emergenza in corso ha segnato fortemente, insomma tutte le comunità e quindi anche Sedico ha subito un po' questo. Insomma è stato un periodo molto difficile sia dal punto di vista amministrativo sia proprio nella gestione poi del quotidiano e anche del supporto un po' alla popolazione. Noi abbiamo lavorato molto nei mesi proprio quelli più critici per dare supporto alla popolazione e cercare di tutelare la nostra popolazione dal punto di vista sanitario. Fortunatamente Sedico ha avuto una quantità di contagi molto limitata rispetto ad altre realtà d'Italia anche se purtroppo abbiamo avuto anche tre persone che sono decedute. La cosa secondo me più significativa è il fatto di essere riusciti, insomma grazie anche al lavoro della Sedico Servizi, di essere riusciti a tenere la casa di riposo libera dal Covid e questo è stato secondo me un bel segnale che abbiamo dato alla nostra comunità, un segnale di grande attenzione, di grande efficienza e questo lo si deve soprattutto al lavoro degli operatori e della direzione del Consiglio d'amministrazione, visto appunto anche quello che è successo in altre situazioni. Noi come Comune abbiamo lavorato fin da subito per essere vicini ai cittadini, abbiamo attivato tutta una serie di servizi per dare supporto alle persone anziane, alle persone malate, alle persone in difficoltà, a chi era in quarantena, a chi era positivo ed era a casa rinchiuso purtroppo perché le norme questo gli imponevano e abbiamo messo in campo tutto un sistema gestito dalla Sedico Servizi che per noi è l'azienda che gestisce i servizi sociali, l'azienda pubblica di proprietà del Comune e quindi abbiamo tutta una serie di servizi gestiti da loro e da volontari che hanno dato una mano e dai nostri gruppi di protezione civile che sono sempre stati in prima linea, insomma quindi siamo riusciti da subito a garantire la possibilità alle persone più anziane di non muoversi da casa e quindi di garantire la possibilità di portare la spesa a casa, farmaci a casa e questo è stato un bel segnale che abbiamo dato a tutto il territorio. In Comune di Sedico durante l'emergenza Covid il mercato per esempio del giovedì, il mercato settimanale non si è mai fermato, noi ci siamo impegnati molto con i nostri uffici e con i nostri operatori per garantire che anche nei momenti più difficili quelle poche attività che gestivano e vendevano in genere alimentari potessero continuare, ci sembrava doveroso per le attività ma anche per i nostri cittadini che avevano la possibilità di acquistare prodotti, insomma è stato uno sforzo notevole, adesso siamo nella fase di ripartenza e la fase di ripartenza ha delle fortissime incognite chiaramente perché non si sa quello che questo periodo nessuno può immaginare, insomma non si può solo ipotizzare ma finché non avremo prove concrete di quello che lascerà sostanzialmente, quindi noi come Comune stiamo cercando appunto di gestire il tutto con grandissima attenzione, non abbiamo cognizione di quali saranno le entrate, la quantità di entrate che avremo, il Governo ha messo a disposizione risorse per i Comuni, speriamo siano sufficienti perché veramente se non avremo le risorse per garantire i servizi, le qualità dei servizi cittadini sarà molto difficile, noi chiaramente su questo stiamo lavorando e stiamo lavorando e ci stiamo mettendo tantissime energie, insomma abbiamo, saranno, nei prossimi giorni usciranno dei provvedimenti che daranno aiuto alle attività economiche, l'assessore alle attività produttive si è impegnato molto in questo periodo e quindi riusciremo a mettere proprio in campo delle risorse, sono circa 60 mila Euro che metteremo nella disponibilità delle attività economiche che durante la chiusura sono rimaste sostanzialmente senza reddito e senza fatturato. È un piccolo segnale perché chiaramente il Comune non è che abbia grandissime risorse, però quello che possiamo lo stiamo mettendo in campo, abbiamo fatto uno sforzo enorme per far partire i centri estivi dando una mano a tutte quelle realtà che operano nel Comune di Sedico, che da sempre gestiscono i servizi estivi, sempre coordinati dal Comune e quest'anno per dare supporto a delle fasce di età che non avevano copertura siamo intervenuti direttamente sempre con la nostra azienda speciale Sedico Servizi e quindi anche lì daremo copertura dai 4 anni ai 6 anni con dei servizi ad hoc per questi bambini e quindi di conseguenza per le famiglie e stiamo studiando e un bando anche per aiutare le famiglie a pagare le rette di questi centri estivi perché a causa Covid i costi per tutti i centri estivi sono lievitati in maniera importante. Diciamo che poi l'emergenza incide anche sul bilancio come vedevamo? Incide molto sul bilancio sì perché si sono dovute mettere in campo per quanto riguarda il Comune tutta una serie di spese per sanificare, per mantenere in ordine gli uffici, per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini che utilizzano gli uffici e questo si ribalta un po' su tutte le attività perché chiaramente tutte le attività hanno delle linee guida molto stringenti da rispettare e queste linee guida richiedono anche costi che sono costi reali che non è facile per tutti sopportare. Siete riusciti a quantificare un po' o è ancora presto? È ancora presto però si parla dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di euro, sicuramente c'è tutto un lavoro, la grossa incognita per noi chiaramente è la riapertura delle scuole a settembre e quello sarà la cartina a tonno a sole di quello che succederà. Appena avremo dal governo delle linee guida chiare potremo ipotizzare quello che sarà un po' l'impatto generale sul nostro bilancio. Ad oggi abbiamo fatto una serie di riunioni, di incontri con la direzione didattica per impostare un po' di lavoro con quelle poche notizie che avevamo e quindi questo un po' ci preoccupa insomma dal punto di vista economico, però è vero che dobbiamo far partire le scuole, dobbiamo garantire la sicurezza dei studenti, delle famiglie e degli operatori della scuola e quindi su questo ci impegneremo sicuramente con tutte le nostre forze. Nel frattempo però ci sono anche altri progetti che vanno avanti, quello forse più visibile anche solo da chi è di passaggio è quello del nuovo polo culturale. Sicuramente sì, in un periodo come questo dobbiamo coniugare l'emergenza e quindi gestire la situazione ma dobbiamo cercare anche di portare avanti tutte quelle progettualità che erano partite negli anni precedenti. Sì il polo culturale che è finanziato interamente da Luxottica nell'ambito dell'accordo di programma sta arrivando al termine dei suoi lavori, i lavori sono quasi ultimati, c'è stato un rallentamento nei mesi Covid perché chiaramente anche l'impresa ha dovuto per forza di cose fermarsi perché ad un certo punto non c'erano più materiali da poter utilizzare, i fornitori erano chiusi e di conseguenza abbiamo perso due o tre mesi che l'impresa sta recuperando e dalle notizie che ho dal cronoprogramma ultimo che ci hanno stilato i lavori dovrebbero essere ultimati per la fine di luglio di quest'anno. Per noi un intervento importante è uno degli investimenti più importanti che vengono fatti a Sedico da tanti anni, un investimento sulla comunità, mettendo a disposizione degli spazi che secondo noi sono bellissimi e fondamentali per tutti i cittadini dal punto di vista culturale, per la socializzazione e ci auguriamo appunto come ho sempre detto che quello diventi è veramente una centralità per Sedico che contribuisca a far crescere proprio l'intera comunità, la nostra comunità. Sì, poi anche un recupero appunto di edifici esistenti che è un po' un trend che si è visto negli ultimi anni. Certamente, lì c'era una vecchia scuola, bella dal punto di vista estetico e analizzandola e poi andandoci a progettare gli interventi anche costruita bene. Devo dire che dal punto di vista costruttivo, seppur fatta negli anni venti, insomma era costruita bene, questo intervento ci ha consentito appunto di consolidarla, di sistemarla dal punto di vista anche sismico e di conseguenza poi anche di rifare tutta una serie di impianti che erano un po' obsoleti e vecchi e di fatto c'è una riqualificazione generale dell'edificio e anche lo riporta insomma a diciamo l'antico splendore con un ampliamento fatto ad hoc sul lato sud che è di fatto la porta d'accesso a tutta la struttura con diverse funzioni al suo interno, dalla nuova sala conferenze, da sale per le associazioni e al piano primo la nuova biblioteca, insomma ecco che sarà molto più grande, spaziosa e sarà in grado di fornire altri ed ulteriori servizi ai cittadini visto anche appunto le dimensioni e finalmente gli spazi adeguati per un comune come il comune di Sedico. Se ne ricordo male quella partita era poi legata all'ampliamento di Luxottica che prevedeva però nell'accordo con il comune anche una sistemazione di problemi idraulici nella zona di Luxottica. Sì, l'accordo di programma aveva diverse poi ricadute sul territorio, la sistemazione idraulica di tutto il corso del Rio Landrisio che è stata ultimata nel 2019 e che effettivamente è funzionato, è stato un intervento imponente, in parte realizzato e gestito direttamente da Luxottica, in parte finanziato da Luxottica e gestito dal comune, è un investimento che supera ampiamente il milione di euro tra i lavori di Luxottica e quello che ha finanziato e gestito dal comune, poi è stato un intervento imponente e sicuramente ci fa tirare un sospito di sollievo quando ci sono le grandi precipitazioni che in passato mettevano veramente in difficoltà quell'area e quella zona. L'accordo di programma prevedeva anche un intervento di ampliamento dell'asilo nido, i lavori sono in fase di ultimazione, anche questi hanno subito un rallentamento proprio nel periodo Covid, però l'impresa ha ripreso a lavorare e sta andando avanti in maniera a sprombattuto e anche lì spazi ulteriori per le famiglie, quindi un altro intervento importante. L'altro intervento è il parcheggio scambiatore di Bribano, dove lavori ultimati anch'essi dall'anno scorso, un parcheggio che è bello e funzionale, avevamo intrapreso anche lì un dialogo con l'azienda perché chiaramente volevamo che svolgesse in pieno la sua funzione e quindi che riuscisse a darci una mano, decongestionare di traffico la zona intorno agli stabilimenti e anche sistemare un po' la questione dei parcheggi. Questo dialogo era a buon punto prima di Covid, adesso post-Covid dovremmo rivedere un po' il tutto, chiaramente finché le linee guida non ci consentiranno di gestire questo spazio con navette ad hoc che siano funzionali perché vedendo le linee guida e le limitazioni e le restrizioni che hanno i mezzi di trasporto, insomma è una cosa un po' da rivedere. Però il parcheggio è fatto e la nostra intenzione è quella di effettivamente utilizzarlo e che diventi un elemento di aiuto anche per decongestionare, come dicevo, quell'area importante intorno allo stabilimento. Per tornare un po' alle sistemazioni idrogeologiche avete delle idee, avete dei progetti anche attraverso appunto la programmazione, il PAT? Sì, noi Sedico è un comune delicato dal punto di vista idraulico soprattutto perché l'acqua, i corsi d'acqua e in generale l'acqua che scola e drena dal territorio crea dei problemi soprattutto in alcune zone abitate. Una delle zone che preoccupa di più è l'asta del Gresal, tutto il bacino scolante verso il Gresal. Noi abbiamo fatto un primo intervento tra il 2016-2017 che andava a sistemare una zona vicino alla zona industriale, abbiamo investito quasi 400 mila euro. Con il PAT abbiamo individuato delle opere di mitigazione che secondo noi risolverebbero in maniera tombale l'intervento, in particolare nel PAT è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione a monte della strada SS50 nella zona di Boscon per Pavei, per capirsi. Sarebbe un intervento che risolvi in maniera tombale la questione Gresal, lì chiaramente la competenza del genio civile e con loro e con la regione bisogna dialogare per un eventuale finanziamento e per realizzare le opere. Noi con le nostre forze abbiamo messo a disposizione questo studio che è all'interno del PAT che sarà un punto di partenza su cui discutere e dialogare. Comunque in questi mesi abbiamo predisposto, abbiamo incaricato un ingegnere per disporre uno studio per risolvere dei problemi che riguardano la frazione di Mairan che è cresciuta tantissimo negli anni dal punto di vista edilizio e con le piogge e con il clima che cambia, con queste piogge improvvise che scendono e che portano giù tanta acqua in pochissimo tempo, sta andando un po' in crisi. Quindi ogni tanto succede che alcune scantinate, alcune garage di case rischiano di andare in crisi ed essere allagate. Abbiamo appunto redato questo progetto che adesso è il genio civile per avere le autorizzazioni che prevede appunto di realizzare delle opere che consentano di migliorare il deflusso dell'acqua da tutto il bacino scolante che va verso Mairan, le convoglia in maniera più sicura verso il torrente Gresal. Il progetto è un progetto molto costoso, tra virgolette, perché ci sono un milione di Euro di investimento, però noi contiamo di spacchettarlo in stralci e di, spero insomma nel medio termine, di poterlo realizzare. Sarebbe un bel intervento che risolve dei problemi che quella frazione ha. Abbinato a questo abbiamo fatto anche un progetto di realizzazione di una pista ciclopedonale che collega appunto Mairan con il centro di Sedico in maniera tale da sfruttare i lavori, quindi quando si posano le condotte e le tubazioni per le acque piovane sopra realizzare questo percorso. Anche questo è un progetto importante, sono circa 500 mila Euro. Ne realizzeremo un primo stralcio nel corso del 2020 ed è il primo inizio, anche lì appunto compatibilmente con le risorse andremo avanti per stralci per realizzare sia appunto gli scolli dell'acqua piovane sia sopra il percorso ciclopedonale, mettendo in sicurezza per ciclisti e pedoni via Fermi che è quella via che collega appunto Sedico con Mairan che è una via stretta dove c'è un traffico piuttosto sostenuto, ma è una zona abitata soprattutto da famiglie che hanno tanti bambini e quindi migliorare la sicurezza di quel tratto porta a beneficio a parte consistente del territorio. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, non possiamo far altro che ringraziare e salutare il sindaco di Sedico Stefano Deon. Buonasera e grazie a tutti voi. Buona serata. Grazie a tutti.